Devo dire che ha la gravità di quello che si è scoperto, perché infatti non è stato un incidente, è stato un omicidio. Tante volte si parla e si dice che certi disastri si possono anche evitare, di questo ne abbiamo la certezza. E anche la procura lo sa, anche la procura lo ha capito, ha capito che comunque sia quello che poi ha dato inizio, il crollo comunque del Ponte Morandi è gravissimo, scoprire che comunque sia che non era soltanto il Ponte Morandi ad essere ammallorato, era un'intera rete autostradale, quindi si parla di 43 persone che sono morte in una maniera atroce, ma i sopravvissuti e tutte le persone che hanno rischiato di morire in questa stessa maniera, non per un giorno, non per una settimana, ma stiamo parlando di diversi anni, perché ricordiamo che comunque sia il Ponte Morandi era classificato come a rischio crollo dal 2014, ricordiamo che i cassoni, le strutture che si trovavano al di sotto del ponte non venivano controllate dal 2013, ricordiamo che i sensori di movimento erano stati tranciati nel 2015 e poi non erano stati ripristinati, ricordiamo che comunque le persone indagate, le persone che appartengono al gruppo Atlantia, a Spea, ad Aspi, hanno agito per cercare di eludere chi doveva acquisire le carte, che utilizzavano dei dispositivi che si chiamano Yammer per bloccare le intercettazioni, quindi sono tanti elementi che trasformano questa realtà in un qualcosa di spettrale. Quindi tu dici che c'è un impianto, si profila un impianto accusatorio tale che sarà molto difficile che qualcuno possa smontarlo. Vero, perché ricordiamo anche che l'Italia deve mandare un messaggio al mondo, perché il mondo intero si è reso conto di quello che è accaduto qui a Genova, il mondo intero sta osservando l'Italia per vedere come si otterrà una giustizia, come si creerà una giustizia che rimanga comunque negli anni a venire. Allora, prima di lasciarti anche agli altri colleghi, vorrei proporre un piccolissimo contributo che spiega chi è Emanuele Diaz, non solo ovviamente il fratello di Henry, ma è una persona che secondo me in carne rappresenta tutti noi, perché lo ricordiamo che su quel ponte potevamo davvero cadere tutti. Il contributo arriverà tra pochissimo. Lorenzo, se intanto vuoi fare una domanda. No, invece io ti voglio fare proprio il contrapasso, quindi la domanda contraria. Qual è la cosa che temi di più? Perché lui, Maurizio, giustamente ha chiesto perché noi dobbiamo essere quasi certi che si faccia giustizia. Invece io voglio chiederti, invece, qual è la cosa che temi per cui invece, qual è il rischio che tu pensi sotto sotto di... perché invece alla fine la giustizia potrebbe non essere fatta. Lo sarà, però, diciamo, se ci fosse un motivo, non so come va la giustizia in Italia, o per qualsiasi altra cosa che ti è passata per la... Il tuo timore è che non sia fatta giustizia, qual è? Un elemento che comunque sia potrebbe complicare il nostro percorso verso la giustizia sarebbe proprio il menefreghismo popolare. Cioè una società che dimentica quello che è accaduto soltanto perché magari guardando indietro vede che è già un evento di qualche anno fa. Per quale motivo dico che questa è una preoccupazione e una paura? Perché comunque tante... Quando capitano le tragedie e a sua volta non si crea una giustizia e a sua volta si dimentica, poi semplicemente si è aperto la possibilità perché ricapiti ancora. Io ad esempio, visto che arrivo da un territorio comunque sia bagnato nelle tragedie, ho questo comunque questo elemento molto chiaro perché in Colombia, paese sì meraviglioso, ma le tragedie vengono dimenticate perché a sua volta vengono spinte dalle nuove tragedie indietro. Ci si abitua alla tragedia e ci si abitua alla mancanza di giustizia. Ci si abitua a morire, ci si abitua a vedere il colore del sangue. Un po' in Italia guarda che non siamo così lontani nell'abituarci, nel dire vabbè intanto, cioè noi sappiamo che esistono dei fatti gravissimi ai quali non viene resa giustizia, o politici o altri che poi diciamo sono sempre al loro posto, fanno sempre le stesse cose e noi siamo abituati. Noi italiani siamo un emblema di popolo, tra virgolette, che si adatta all'ingiustizia generale. Questa è un'occasione forse anche per noi italiani a livello di opinione pubblica di avere la forza, di rappresentare, ribadisco, una forza d'urto pesante. Sì, è vero, però ricordiamo quello che è accaduto, perché i processi bisogna viverli, perché tant'è la giustizia va costruita, non è un qualcosa che si ottiene in automatico, no? Tante volte bisogna sacrificare tanti elementi della propria vita per poter arrivare a quell'obiettivo. È vero che comunque sia anche in Italia sono capitati degli eventi molto particolari, ricordiamo che purtroppo questo glorioso paese nel mondo viene anche associato alla mafia, ma ricordiamo che ci sono anche degli ottimi magistrati che nel mondo vengono riconosciuti per il lavoro svolto, quindi è una partita che comunque sia potrebbe cambiare, potrebbe mandare un messaggio al mondo diverso da quello che in molti credono che sia l'Italia. Si gioca molto anche l'Italia. Tiziana, Tiziana Oberti? Sì, io ho una domanda che è un po' la domanda che ripeto sempre a Emanuel, così come agli altri familiari, perché in questi mesi, insomma tra poco saranno 30 mesi, tra pochi giorni, se ne sentite di ogni, purtroppo, ogni volta che esce un'intercettazione, ogni volta che si legge quello che non è stato fatto, la ferita continua a sanguinare ancora di più, una ferita che purtroppo sappiamo che non potrà mai rimarginarsi. E allora volevo chiedere ad Emanuel che cosa oggi, giorno dopo giorno, fa lui ancora male, a lui e a sua madre, oltre ovviamente al fatto di non poter più avere R tra loro, ma di tutta questa vicenda. È una domanda che rispondo, ma che comunque sia anche ampia, perché a me fanno male tante cose. Ad esempio quando vado in macchina mi fa male vedere quel sedile a fianco al mio che è vuoto. Mi fa male comunque sia andare in tribunale e sentire come tante persone cercano di distruggere il nostro obiettivo di ricerca della giustizia. Mi fa male comunque sia sapere che quella persona che mi guidava oggi non esiste più, perché comunque io ero il fratello minore, quindi la vita mi ha donato un fratello magico che è stato comunque sia assassinato. Quindi mi fanno male sicuramente tante cose, ma a sua volta questo dolore io penso che debba a sua volta essere modificato e trasformato in un qualcosa di produttivo per la propria vita, nel mio caso un qualcosa che mi spinge a ricercare una giustizia che lui merita. Per mia madre è la stessa cosa, perché mia madre devo dire che si affida molto alla spiritualità. Noi siamo cattolici e vediamo anche nella morte un qualcosa che anche se tante volte non riusciamo a capirlo tende a migliorare la vita. Speriamo che la morte di mio fratello serva a un qualcosa, questo comunque ci dà speranza. A volte non è a sufficienza, a volte non ti cambia la giornata, ma almeno puoi sperare. Stiamo vedendo delle immagini anche molto crude che riaprono una ferita difficilmente rimarginabile. Tu le hai tra virgolette volute, me le hai sollecitate, perché? Perché devo dire che forse è vero che ogni giorno si muore un po' alla volta, magari io sto morendo in una maniera un po' più dolorosa. Se voi osservate il filmato, quello che c'era in precedenza, proprio all'inizio, vedrete che c'è un accumulo proprio di macerie che sta proprio crollando. Per me è un dolore impressionante sapere che dentro proprio a quelle macerie c'era quella macchina gialla nella quale viaggiava mio fratello. Ma soffrire non mi giustifica a crollare, soffrire non mi giustifica a smettere di lottare. Bisogna comunque sia imparare a gestire il dolore che è diverso. È quasi un incitamento a resistere, dici tu, Lorenzo. Delle tue parole si evince già una cosa, quando hai parlato del significato della morte, del significato di queste tragedie, incitando tua madre la spiritualità, al di là dell'esistenza o non esistenza del credere o non credere in Dio, che questo è un altro discorso. Però già nelle tue parole, a me pare che la tua vita, cioè la morte di tuo fratello, credo che con tutto il male possibile abbia comunque sicuramente ti ha chiamato la vita e mi sembra che dal modo con cui stai reagendo forse ti ha indirizzato verso un destino che non avresti avuto. Sì, ma questo è verissimo perché d'altronde io comunque sia non ero più in Italia, ormai i miei progetti di vita mi portavano a stare dall'altra parte del mondo, avendo sì una connessione con mio fratello, appoggiandomi a lui perché tant'è, mi faceva proprio tanto piacere essere il fratello minore, cioè Henry era magico, era veramente impressionante. Ma quando ti tolgono un qualcosa di così prezioso non è che puoi voltarti dall'altra parte, poi con queste variabili, sotto queste condizioni, ancora meno. Quindi mi ritrovo proprio a lottare, cioè giorno per giorno si lotta perché tante, come dice Tiziana, questa ferita non si chiuderà mai, è impossibile che comunque sia un qualcosa del genere, possa guarire. Ma tant'è, rivadisco, non è una motivazione abbastanza grande per arrendersi, no? Semplicemente bisogna continuare ad andare avanti perché tante tragedie se ne vivono tutti i giorni. Quindi la vita devo dire che forse è stata un po' tanto cruda con me, con mia madre, anche con mio fratello, ma ci ha fatto capire un qualcosa, che se non ti rialzi subito poi la vita ti fa crollare una nuova volta. Non riesci più a rialzarti. Senti, tornando al contenuto dell'inchiesta e non solo, è vero che i soldi che venivano stanziati per la manutenzione ordinaria del Morandi erano 23 mila euro all'anno, ribadisco perché qualcuno potrebbe pensare che mi sia sbagliato, 23 milioni, 2 miliardi, virgola 3, 23 mila euro all'anno. È vero, perché infatti comunque sia il Morandi non era mallorato soltanto nelle pile che sono, che una, la pila 9 che è crollata e l'altra 10 che è rimasta in piedi per miracolo. Perché quella pile è rimasta in piedi perché l'impalcato Cassone è crollato subito. Tante delle persone che sono corse verso la galleria di Coronata non sanno quanto hanno rischiato che si effettuassi un crollo comunque a catena sul Morandi. Cioè poteva accadere anche in altri punti del ponte. Sì, perché tante infatti comunque qua entrando proprio nella perizia, entrando proprio in quello che hanno dichiarato i periti del giudice, il Morandi non veniva ripristinato da nessuna parte. Cioè era praticamente lasciato e tappezzato per evitare comunque sia di creare degli allarmi. Ma in realtà era da preoccuparsi. Perché noi quando ci passavamo sopra vedevamo lavorare. In realtà mi dicevi tu prima di andare in onda, sì ma erano quelli che a Genova... Tappulli. Diciamo tappulli, non so se è una parola che hai imparato a conoscere. In Colombia no. Si dice tappulli, cioè quando si mettono delle toppe. Anche io vorrei capire cosa andavano a fare perché tant'è, ricordiamo che il Morandi è crollato, quindi dei lavori non li effettuavano. Cioè in questi discorsi, in queste tragedie sono i morti a parlare. Di morti ce ne sono tanti, di sopravvissuti, molti di più. Ma dei lavori non si eseguivano su queste strutture. Il Morandi è stato lasciato a marcire, a morire. Che comunque basta osservare la rete autostradale Ligure, che comunque sia nelle stesse condizioni. Parliamo di gallerie che comunque sia sono crollate, ponti che sono pericolanti, barriere fono assorbenti che rischiavano di creare tante stragi. Quindi sul serio praticamente viaggiare in questa rete autostradale era rischiare la vita senza rendersene conto. E lo è tuttora.